Noi più Europa riteniamo che ha avuto l'onore di vincere le elezioni o di convincerle. Adesso deve assumersi anche l'onere di governare il Paese attuando sfumando promesse elettorali sufficientemente bizzarre. E quindi in una democrazia funzionante chi vince governa, se hanno problemi interni, e chi non vince ha un ruolo altrettanto importante che è il ruolo del controllo e dell'opposizione, che in una democrazia funzionante è altrettanto importante che un ruolo di governo. La seconda considerazione più di merito, non a caso ci chiamiamo più Europa, è l'aggancio senza tentennamenti con l'Unione Europea, a partire dalle leggi del bilancio, a partire dai conti pubblici, eccetera, che non ci pare aver visto o aver riscontrato, diciamo, in altre forze durante questa campagna elettorale. E in un momento, diciamo, di sbavature anche di amici francesi e di altre sbavature, diciamo, un po' più lontane nel Mediterraneo e di fragilità complessive, l'aggancio all'Europa, a noi sembra, anche per risolvere i problemi italiani, la priorità è in assoluto e su questo lavorerà e si dedicherà più Europa.